Era il 2 giugno 1946 quando si svolse il referendum che con il voto popolare portò alla nascita della Repubblica. Gli italiani, e per la prima volta le italiane, votarono per scegliere tra Repubblica e Monarchia ed elessero i deputati dell'Assemblea Costituente che ebbe poi il compito di redigere la nuova Carta Costituzionale. La giornata di domani, tradizione e festa, vuole ricordare a tutti questa importante pagina di storia. Con il 2 giugno noi ricordiamo intanto la Fondazione della Repubblica Italiana ma con essa ricordiamo anche la nostra Carta Costituzionale che fu il primo frutto dell'Istituzione della Repubblica Italiana in un contesto internazionale in cui vengono messi in dubbio i valori delle libertà individuali, il valore della libertà di opinione, il valore della tutela dei paesi nazionali dalle aggressioni. È evidente che la Costituzione diventa quindi un riferimento importante, un riferimento importante per tutti noi, la tutela della democrazia. La democrazia noi dobbiamo amarla profondamente. Lei domani ci saranno i momenti istituzionali. Qui a Verona saranno consegnate delle onorificenze, dei riconoscimenti. Che significato hanno? Che valore hanno? Domani consegnerò le onorificenze al merito della Repubblica Italiana ad alcuni cittadini veronesi che hanno ricevuto questo riconoscimento dal Presidente della Repubblica ma anche il riconoscimento di maestri del lavoro a lavoratori sempre di questa provincia che nel tempo hanno lavorato tutti quanti per il progresso di questo territorio. Si tratta di riconoscimenti che vanno alla persona, all'individuo, ma vanno anche alla comunità all'interno della quale loro hanno svolto un ruolo significativo, un ruolo significativo mirato al progresso di questo territorio. Ma io parlerò agli adulti, parlerò soprattutto ai giovani. Domani ci saranno tanti giovani in piazza, i giovani dei ragazzi delle scuole medie superiori ma anche delle scuole primarie veronesi e della provincia di Verona. Parlerò a loro perché è a loro che bisogna ricordare e tramandare il messaggio dei padri costituenti e degli italiani che hanno fatto questo Paese libero e questo Paese democratico.